La Coppa Davis, alzata nel cielo di Malaga allo scorso novembre dopo 47 anni di attesa del tennis italiano, arriverà a Pesaro. Il trofeo sarà infatti esposto dal 12 al 14 aprile a Casa Rossini per poi spostarsi nella sede del Tennis Club Baratov, dove resterà fino al 16 aprile. Pesaro, capitale della cultura, viene dunque inserita nel Trophy Tour organizzato dalla Federazione Italiana Tennis, che sta facendo viaggiare per tutte le regioni italiane il trofeo più iconico di questo sport per permettere a tutti gli appassionati di toccarlo con mano in un periodo davvero d'oro per il tennis nazionale che sta toccando vertici mai visti. Dalla vittoria della Davis ai trionfi di Sinner numero due del mondo ad un movimento che sta mietendo germogli quanto mai interessanti. Ne sanno qualcosa il Tennis Club Baratov, dove è nato e cresciuto Luca Nardi, che in questo 2024 è salito alla ribalta mondiale battendo Diokovic a Indian Wells per poi confermarsi vincendo il Challenger di Napoli. Sarà un momento quanto mai gratificante per il club che esporrà la Coppa nella sua sala trofei aprendosi a foto e selfie degli appassionati. Quella Coppa Davis che a Pesaro si è giocata in tre edizioni e che nel luglio 2016 si giocò pure outdoor al Baratov con 6.000 persone ad assistere a Italia-Argentina. La Coppa arriverà a Pesaro dopo essere stata esposta a Terni per poi proseguire il suo trophy tour verso Macerata.